Le acque preziosi di Montecatini Terme, dopo aver conquistato la rock star Madonna, sono pronte a portare i propri benefici in tutto il mondo. La cantante italo-americana è infatti legato il proprio nome ad una nuova linea cosmetica prodotta dall'azienda giapponese MTG, che ha lanciato oggi a livello mondiale a Montecatini e contemporaneamente Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Singapore, Taiwan, Hong Kong e ovviamente in Giappone, la linea MD&A Skin a base di quattro fonti di acqua termale di Montecatini, una straordinaria opportunità di visibilità per il regno delle terme toscano. Sì, in effetti è una storia che ormai ha già più di otto anni, però finalmente ci siamo arrivati a questa presentazione mondiale direi e è molto importante per le terme ma anche per la città perché alla fine sono le acque presenti nei cosmetici, però è il territorio Montecatini che viene valorizzata e viene soprattutto sottolineata come l'ambiente dove nascono queste acque e in quanto ambiente esclusivo, in quanto stile di vita esclusivo, rende queste acque altrettanto esclusive. Poi il lancio di questo prodotto che prevede un sistema nel quale parte centrale sono l'acqua e il fango di Montecatini. Credo che si possa dire che siamo davvero nella top ten delle città termali mondiali. La campagna marketing della nuova linea cosmetica lanciata da Madonna si è arricchita con un video promozionale dove il protagonista insieme al prodotto è proprio la Rockstar, uno spot nel quale la cantante rivela di aver trovato solo a Montecatini il fango per una bellezza perfetta. È un'avventura iniziata nel 2012 di cui si è già parlato ma non era mai stata tradotta in un video così esplicito da parte di Madonna in cui effettivamente lei racconta la sua scelta dell'acqua di Montecatini, ne decanta le qualità, parla della storia dell'acqua di Montecatini, la definisce Holy Water, quindi una sorta di acqua santa della bellezza che è detto da lei che pure si chiama Madonna ce la facciamo andare benissimo e soprattutto un posizionamento sui commercial americani e asiatici che per noi è fondamentale perché vede ritornare il nome di Montecatini e le immagini del tettuccio con una cadenza impressionante. A Montecatini quest'estate aveva già fatto tappa la visagista di Madonna proprio per approfondire e conoscere da vicino peculiarità delle acque termali e territorio. Da qui l'invito dell'assessore al turismo De Paolo a Madonna a visitare di nuovo Montecatini. Come avrà risposto la cantante di fama internazionale? Sì, ho la bocca cuscita, se ne riparla l'11 d'ottobre. Montecatini ci spera dopo aver già ottenuto oggi un risultato importante portando il nome e l'immagine della città termale in ogni parte del globo. Glowing, hydrated skin. Treat your face to a day at the spa. You deserve it.